Buonasera ragazzi, scusa, io ho 20 euro, che cosa mi dai tu con 20 euro? Ma, effa, ci diamo qualche cosa per 20 euro, che dici? Aspetta, io sai che cosa ti ricordo? Invece, 11 euro, tu rogno pure 4 euro di 10, va bene? Aspetta, che cosa ti rogno? Uno, nella nostra nuova box, guarda che spettacolo, uno, due, aspetta, ci facciamo due lunette? Guarda, all right, un po' di patate, fresche sempre al solito ragazzi, guardale, frangeli vedere che poi non ci credono che sono fresche, vieni qui, pizzette, ok, e siamo qua, allora questo è il nostro pollo condito con le patate al forno, e in più ti do pure una pizza margherita, dicciotti, con 16 euro, perciò tu lo vuoi che un riesco o no? Sì, allora, ti aspetto ragazzi, mi raccomando, un bacio! Sì, ciao! Sì, allora, ti aspetto ragazzi, mi raccomando, un po' di patate al forno, un po' di patate al forno. Grazie.